Ringrazio il dottore, è un sogno che si realizza, partendo a questa società da più di dieci anni, non avrei mai pensato di vincere lo Scudetto. Campione d'Italia protagonista, campione d'Italia vero, campione d'Italia titolare. Al di là di questo è stato un anno fantastico, ringrazio il dottore che quando all'inizio dell'anno... Quando hai svoltato, in che momento hai svoltato Ignazio, perché hai svoltato quest'anno? Ma non lo so, io ringrazio il dottore che all'inizio dell'anno mi ha sempre sostenuto, lui il mister, anche quando mi davano per partente il dire il dottore si è opposto al mio trasferimento, mi ha venuto a tutti i costi qua e io per questo lo so che ringraziare.